Le previsioni positive fatte nei giorni scorsi sono state confermate e almeno a detta di alcuni esercenti del capoluogo bellunese, proficuo si è rivelato essere l'avvio dei saldi invernali. Innanzitutto i saldi sono partiti bene, anche se l'inizio è stato di un giorno feriale, il riscontro è stato buono, sia il venerdì che il sabato. La domenica c'è stata soprattutto nella seconda parte del pomeriggio una leggera fressione che causa il maltempo. Devo dire che sono iniziati bene, in maniera regolare, abbiamo lavorato dal primo giorno fino a domenica in maniera abbastanza costante, siamo soddisfatti. I saldi sono partiti bene, come quasi sempre, anche per il discorso della stagione invernale con tanta neve, che si presta per la partenza dell'inverno molto buono. Qual è il tipo di cliente? La maggior parte sono le nostre clienti che ci seguono durante l'anno, durante le varie stagioni, magari avevano voglia di un capo in più che avevano tralasciato durante gli acquisti della stagione e si sono fatti un regalino con i saldi. Poi ovviamente c'è qualche cliente nuova invogliata dall'affare del saldo. Il cliente ormai è consolidato nel senso che alla fine riesce ad avere sempre attenzione per i prodotti di qualità, quindi ha già focalizzato tempo fa il prodotto da scegliere e di conseguenza fa già l'acquisto sicuro. I clienti sono quelli miei classici, da quelli di occasionali, turisti, sì ci sono vari tipi di clienti che sono entrati in questo periodo. A livello nazionale Conf Consumatori ha stilato un catalogo contenente alcune linee guida per gli acquisti in questo periodo, primo fra tutti di fidare dai saldi superiori al 50% che potrebbero nascondere dei tranelli. Sì, sono d'accordo, nel mio caso io ho dei saldi che vanno dal 20% al 30%. Consiglio sicuramente le persone ad acquistare i negozi nel centro storico delle città dove hanno un rapporto personale con il titolare dell'azienda e quindi sanno per certo cosa comprano.